Il percorso Digital Consulting si sviluppa lungo due filoni principali di interesse, le competenze digitali e le competenze, i principi e le metodologie consulenziali. Il percorso in Digital Consulting è un percorso che si basa su 156 ore di didattica, suddivise tra didattica frontale, case study e testimonianze da parte di aziende, oltre ad un laboratorio condotto da un'azienda, il cui output verrà misurato dal management dell'azienda stessa. All'interno del primo filone i nostri studenti apprendono, tramite una serie di progetti e di casi studio, le applicazioni delle tecnologie digitali più recenti, quali machine learning, blockchain, artificial intelligence e l'applicazione dei big data nei processi di business. Per fare questo è necessario sviluppare competenze trasversali, i cosiddetti soft skills, vale a dire la capacità di analisi critica dei fenomeni organizzativi, lo studio dei processi di business delle organizzazioni e la capacità di lavorare in team, che sono dei requisiti essenziali per poter portare a termine dei progetti sfidanti come sono quelli tipici della trasformazione digitale. Lo sbocco del percorso non prevede necessariamente una carriera nella società di consulenza, anche perché statisticamente più o meno metà dei nostri studenti lavora in aziende manifatturiere di servizi, pertanto il corso contribuisce a formare competenze e conoscenze di management in generale. Il voto finale è il risultato dei lavori che vengono svolti durante il corso e dell'esame a fine corso e per facilitare gli studenti nel processo di apprendimento a metà corso è previsto un momento di confronto durante il quale vengono dati dei feedback sul livello di preparazione raggiunto. Grazie a tutti!